Il Parlamento europeo è stato chiamato ad esprimersi sulla relazione conclusiva della Commissione Inge sulle interferenze straniere nei processi democratici dell'Unione Europea e dei suoi stati membri. Un testo che mette sotto accusa le ingerenze russe, verso le quali esprimiamo una netta condanna, così come abbiamo condannato l'inaccettabile aggressione all'Ucraina. Nello stesso testo si evidenzia come altre nazioni utilizzino tecniche simili. Pensiamo alla Cina, che nel caso italiano può contare su un vero e proprio partito trasversale filo cinese e un forte sostegno nel Movimento 5 Stelle, a meno fino a poco tempo fa. E il Venezuela, il Venezuela di Maduro, che invece utilizza i provventi del narcotraffico per finanziare i partiti politici europei affini, come è avvenuto con il partito di estrema sinistra Podemos, che ha il governo in Spagna, e come pare possa essere avvenuto ancora una volta con il Movimento 5 Stelle in Italia, secondo le rilieverazioni di alcuni testimoni diretti che hanno portato anche all'apertura di un'inchiesta. Un'allarme grave che abbiamo condiviso. Ci dispiace però che, come spesso capita al Parlamento europeo, le sinistre abbiano voluto utilizzare...